buongiorno a tutti ragazzi oggi stamattina mi sono svegliato ieri ho fatto un po' tardi al lavoro avrei voluto condividere subito con voi questa grande gioia ma lo farò stamattina perché mi sveglio col sorriso certo la faccio un po' assonnata però sono contentissimo perché come potete ben vedere qui sopra in alto leggete un bel risultato netto 5 a 1 per la sampdoria ovviamente la mia faccia di godimento se non vuoi a cosa è dovuta lo sapete benissimo ve lo faccio subito vedere scendendo ragazzoli miei cosa leggete qui al 69esimo fabio coagliarella si sblocca dopo ho perso il conto ormai dei mesi nei quali non è riuscito più a segnare il nostro fabione coagliarella ex capocannoniere appunto della stagione 2018-2019 giocatore su cui ormai stavo perdendo le speranze però niente ragazzi questa giornata del fantacalcio ho dovuto fare una scelta dolorosissima avevo schierato il tridente caputo belotti martinez ma dentro di me dentro dentro il mio cuore sentivo sentivo che fabione si sarebbe sbloccato e infatti a due minuti dalla dalla fine a due minuti schierare la formazione al fantacalcio ho deciso ragazzi è stato veramente doloroso è stato veramente difficile per me scegliere ho messo in panca lautaro martinez ragazzi lautaro martinez lo so lo so ragazzi voi adesso penserete mi direte ma tu sei coglione tu non ci vai bene di testa ragazzi si pensavo che pensavo che il toro non avrebbe segnato con l'atalanta visto che comunque era una partita molto complicata e ho voluto dare fiducia a fabione coagliarella perché avevo una partita giustamente la sampdoria aveva una partita più semplice in casa con il brescia e quindi ho schierato lui titolare mi sentivo mi sentivo veramente mi sentivo tantissimo che avrebbe segnato coagliarella non mi aspettavo la doppietta e che mi ha fatto godere raga il doppio perché come potete ben vedere ha segnato anche al 92esimo fabione coagliarella con un pallonetto imprendibile veramente fantastico uno dei suoi gol uno dei suoi capolavori di sempre uno dei suoi cioccolatini e quindi niente ragazzi ovviamente è stato dolorosissimo perché perché insomma lasciare lautaro martinez in panca è stato molto difficile perché è stata una scelta azzardata infatti alla fine martinez mi ha fatto pure il lavoretto però ripeto avevo ho dato fiducia ovviamente a coagliarella e di questo scambio sono stato ampiamente ripagato perché il quaglia mi ha fatto pure la doppietta e ho voluto ho deciso di dare fiducia al neo acquisto belotti che alla fine mi ha messo pure l'assist e ha caputo perché pensavo che con l'udinese caputo si sarebbe sbloccato avrebbe segnato avrebbe fatto qualcosa visto che lui la punta principale e però ricordiamo cioè voglio ricordare il risultato finale di quella partita di udinese sassuolo 3 a 0 non me l'aspettavo questo risultato l'udinese nelle ultime tre partite ha vinto giocando anche in maniera convincente quindi ovviamente è stato è stato è stata una grossa batossa perché caputo alla fine ha giocato male avevo anche il neo acquisto avevo anche schierato il neo acquisto tra ore che forse è stato l'unico che si è reso un po' più pericoloso però vabbè sassuolo è stato veramente deludente e però niente ragazzi martinez invece mi ha fatto il lavoretto ha fatto il gol sempre su assist del solito lucaco una velocità di esecuzione spettacolare da parte del toro fortissimo però vabbè che ci dobbiamo fare però in compenso martinez in compenso quagliarella mi ha fatto doppietta si è sbloccato sono contentissimo per lui e ovviamente non mi posso lamentare di questa giornata al fantacalcio visto che stiamo vi faccio vedere anche gli altri vi faccio vedere anche chi ha segnato gli altri gol tutti molto belli la partita non l'ho vista ho potuto vedere tutti gli highlights delle varie partite la partita si era sbloccata inizialmente con il vantaggio del brescia ad opera di chancelor su assist di torre grossa molto bello il gol e infatti io là già mi stavo come dire mi stavo allarmando stavo dicendo caspita ma la sampdoria si vuole sbloccare non si vuole sbloccare anche perché ragazzi sapete io ho dato anche fiducia avevo dato anche fiducia a ramirez però non l'ho schierato perché come sappiamo come sapete è infortunato al momento e dopo di che c'è stata la ribalta la ribalta della sampdoria che ha segnato 5 gol è ovviamente doppietta del quaglia caprari è entrato al 75esimo dopo due minuti ha segnato cioè veramente subito decisivo anche i gol di linetti e di yancto sono stati molto belli niente ragazzi è stata veramente una prestazione convincente quella della sampdoria anche perché la partita oltre al gol di chancelor il brescia si è reso pericoloso in pochissime occasioni la sampdoria ha stradominato infatti come potete ben vedere anche dalle statistiche nel primo tempo 10 tiri di cui 6 in porta e 4 fuori per la sampdoria il brescia un tiro ha fatto un tiro soltanto un tiro in porta e quindi come ben sappiamo il tiro del gol secondo tempo è stata forse un po' più equilibrata la partita però sempre la sampdoria ha sempre dominato la sampdoria con 12 tiro di cui 5 in porta e 7 fuori e 5 punizioni il brescia 8 tiri 4 in porta e 4 fuori e 7 punizioni comunque forse il secondo tempo è stato un po' più equilibrato vabbè ma i numeri sono più dalla parte della sampdoria volevo farvi vedere una cosa come potete ben notare quagliarella ora vi faccio vedere una cosa quagliarella veramente io ormai raga non ci speravo più infatti stavo per vendermelo questa giornata volevo comprare qualche altro giocatore volevo dare fiducia a qualche altro giocatore però poi ho pensato caspita col brescia poi giustamente raga forse vabbè se avessi schierato se avessi schierato Martinez Belotti e quagliarella avrei fatto veramente 13 no niente andiamo a vedere le quotazioni di quagliarella sono scese drasticamente cioè lui è partito da 30 era quotato 30 e ora è sceso cioè è sceso vertiginosamente da 30 a 16 raga cioè capite bene capite bene che io ormai non ci credevo più nel quaglia e invece questa giornata gli ho voluto dare fiducia e niente come potete ben vedere sempre sempre titolarissimo è sempre titolarissimo ha mancato soltanto queste tre partite non riesco a capire il grigio il grigio dovrebbe sì era presente ha giocato ha giocato ha giocato però forse non riesco a capire non riesco a capire queste tre partite dove c'è il grigio cosa cosa vuol significare comunque come potete ben vedere è sempre titolarissimo nella Sampdoria e niente sicuramente dopo questa doppietta le sue quotazioni le sue quotazioni saliranno ovviamente come potete vedere per il numero di partite che ha giocato soltanto tre gol veramente un po' deludente vabbè tre gol ovviamente da aggiornare con la doppietta di ieri a cinque cinque gol per un attaccante certo è un po' deludente infatti il quaglia fino ad ora sta un po' deludendo però per l'età che ha per l'età che ha alla fine non è assolutissimamente male io comunque penso che continuerò a dargli fiducia in questo fantacalcio o almeno per ora e vi voglio far vedere in questa giornata alla fine non mi posso proprio lamentare ricordiamo che la giornata ancora non è finita perché oggi pomeriggio stasera non ricordo l'orario ci sarà Parma-Lecce e io tifo fortemente il Lecce e alla fine raga non mi posso proprio lamentare come potete ben vedere 74 e 5 di parziale vabbè questo è il mio risultato finale è il mio risultato finale perché dobbiamo attendere dobbiamo attendere insomma gli altri giocatori della partita di stasera il mio avversario Vinni Vincenzo che saluto che saluto fortemente che sta rodendo come un animale lo saluto dobbiamo aspettare ancora insomma che giochi il suo Cucca stasera come potete vedere lui è stato anche un po' sfortunato vabbè sfortunato forse non si era ben informato ha schierato Scrinjar che non ha giocato e quindi gli subentrerà Romagna 5 e mezzo ragazzi io ho schierato una formazione questa è più o meno la mia formazione di punta la mia formazione principale l'estracoscia ha fatto un partitone sia e mezzo diciamo ricordiamo la Lazio ha vinto ma molti meriti vanno a stracoscia che ha fatto veramente dei paratoni dei miracoli Milenkovic come al solito perno inossidabile della difesa fiorentina Hernandez che ormai intoccabile ragazzi è come sempre diciamo che un altro po' è lui l'assistman è il goleador del Milan De Vrij Lulic che avevo acquistato a questa giornata è stato un po' deludente però dai tutto sommato l'ho preferito a Buonaventura che mi ha preso sì subentrato nel secondo tempo però vabbè Pellegrini deludentissimo non me l'aspettavo Candreva ok ne ho acquisto Traore che è stato forse l'unico più pericoloso al Sassuolo e come potete vedere Caputo Berotti Quagliarella Caputo deludentissimo la panchina è questa ho lasciato Smoling in panchina Musacchio Romagna Buonaventura Benassertosmi certo il centrocampo della panchina fa veramente cagare e Martinez che ho lasciato in panchina e ricordiamo vi voglio ricordare anche che ho Orsolini che secondo me è un ottimo giocatore infatti nelle due precedenti giornate l'ho schierato di Tolare e in entrambe le giornate mi ha segnato e mi ha fatto godere tantissimo e niente ragazzi cosa dirvi niente vi volevo fare questo video vi volevo fare questo video soltanto perché sto godendo ancora come un animale cioè perché il mio sesto senso mi ha premiato e anche il rischio che mi sono preso di mettere Quagliarella di lasciare Martinez certo a mettere tutti e due sarebbe stato ancora meglio però purtroppo non si può avere tutto dalla vita prima di chiudere andiamo a vedere un attimo la classifica ovviamente la Juve con la vittoria di ieri con la vittoria di ieri torna in vetta alla classifica candidandosi ovviamente come sono praticamente campioni in inverno l'Inter a seguire a 46 la Lazio occhio alla Lazio perché secondo me può dire la sua fino alla fine del campionato sempre che non comincia a perdere punti come fa di solito Roma Cagliari e Torino in Milan è un po' risalito però secondo me ragazzi a meno 10 dal quarto posto della zona Champions è molto difficile però con l'arrivo di Slatan e qualche magari qualche altro innesto dobbiamo vedere un po' come si va ad evolvere la situation fino a fine gennaio e niente vedendo la zona invece retrocessione Spal Brescia Genoa e Lecce sono quelle che rischiano un po' di più al momento la Sampdoria con questa vittoria si distacca un po' dalla zona retrocessione al momento e niente ragazzi che altro dirvi è stato un weekend spettacolare pieno di partite interessanti niente sto rodendo forte per la vittoria della Juve l'ennesima ho potuto vedere ieri a lavoro che si è infortunato si è infortunato Zaniolo rottura del legamento crociato anteriore se non sbaglio spero insomma in una pronta guarigione di questo ragazzo gli auguro in bocca al lupo ovviamente è un infortunio gravissimo questo significa che sicuramente per lui la stagione è finita e niente più che augurargli una pronta guarigione non saprei che dire se non mi sbaglio sei infortunato anche se è infortunato anche Demiralma non dovrebbe essere nulla di grave e ovviamente ora sicuramente ci saranno altri giocatori infortunati mi viene da pensare a Ribery ma a fine febbraio dovrebbe tornare e quell'altro giocatore che si è rotto appunto il legamento crociato che dovrebbe tornare a fine maggio non mi ricordo adesso il nome dovrebbe essere dovrebbe essere Caramò sì Caramò dovrebbe essere comunque niente ragazzi che dirvi godiamoci speriamo in una vittura del Lecce stasera sarei contentissimo per il Lecce e vediamo un po' come si va come si va ad evolvere la situazione in questo campionato e niente ragazzi cos'altro dirvi sono ancora contentissimo oggi non dovrebbero esserci partite particolari infatti sì c'è soltanto il Parma altri campionati stranieri ah niente raga visto che sto ho potuto vedere che per l'ennesima volta la supercoppa spagnola l'ha vinta Real Madrid però soltanto ai rigori un po' sono un po' amareggiato un po' triste perché mi sarebbe piaciuto vedere sul podio l'Atletico Madrid però raga purtroppo purtroppo le squadre le squadre più blasonate vincono sempre in un modo o nell'altro sempre o Barcellona o Real Madrid però ovviamente spero di vedere una squadra diversa quest'anno sul podio tipo l'anno scorso sono rimasto parlo della Champions League ovviamente l'anno scorso sono rimasto contentissimo per la vittoria del Liverpool veramente una stagione fantastica favolosa anche quest'anno sta facendo veramente bene ovviamente spero che la Juve vabbè non dovrei non dovrei dirlo da buon italiano dovrei tifare per le italiane in Champions però io veramente raga non riesco a tifare la Juve ma veramente mi viene il ribrezzo mi viene il rigetto quindi spero ovviamente che esca il primo possibile dalla Champions anche se coglione non penso che avranno grandi problemi e niente ragazzi cosa altro dirvi per ora nulla ci vediamo alla prossima mi raccomando like al video commentate se volete prendetemi a parola oppure godete insieme a me per la doppietta del quaia se l'avete schierato al Fanta e niente alla prossima like campanellina degli aggiornamenti e ci vediamo alla prossima ciao